nell'accompagnamento di una canzone pop quali sono le possibili sostituzioni armoniche quindi soluzioni a livello di voicing delle note dell'accordo che danno dei colori che potrai poi inserire nel tuo modo di suonare uno di questi più frequenti è sull'accordo di settima quindi ad esempio in don maggiore sul quinto grado l'accordo di sol settima utilizzare questo tipo di disposizione accordo è l'accordo di sol è la nota al basso che comanda la fondamentale sopra suono questa triade di fa maggiore che in relazione alle note dell'accordo di sol settima saranno settima nona e undicesimo meglio quarta una sonorità utilizzatissima da elton john carol king grazie a tutti